Ciao a tutti sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Ricevere sorprese è sempre cosa gradita, specie dopo un periodo trascorso a fare i conti con le pene d'amore. E poi l'estate, si sa, è in grado di rendere tutto ancora più magico. L'edizione appena trascorsa di Uomini e Donne non è di certo stata facile per Ida Platano. La dama, infatti, è stata chiamata ad affrontare numerosi scontri ed elusioni, fino ad arrivare al ritorno in studio del suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri, conosciuto negli anni passati proprio al celebre dating show. Il periodo estivo, dunque, servirà a Ida per concentrarsi su se stessa, e per prepararsi a tornare, più splendente che mai, nel parterre femminile del programma. Cosa c'è di meglio, per ricaricare le pile, di concedersi una vacanza in una delle più belle città italiane? Attualmente, infatti, la bella dama bresciana è intenta a godersi qualche giorno tra le bellezze della capitale e, come al solito, non perde occasione per portare con sé i suoi follower attraverso post, video e IG stories pubblicate. Con i suoi innumerevoli fan, nelle ultime ore, Ida ha voluto condividere anche una bellissima sorpresa da lei ricevuta. Ecco di che cosa si tratta, sorprese misteriose, alcune ore fa, tra le Instagram stories di Ida Platano, è apparsa questa immagine raffigurante un sacchetto bianco, lasciato fuori a quella che si presume essere la sua camera d'albergo a Roma, con un cuoricino e due semplici parole, per te. La celebre dama di Uomini e Donne non ha aggiunto altro riguardo l'accaduto, né sul contenuto della busta né sulla persona dalla quale lo ha ricevuto. La reazione della Platano, un, grazie, con uno smile costellato da cuoricini, tuttavia, lascia intendere che la sorpresa sia stata gradita, a prescindere da chi sia il mittente. Si tratta di un ammiratore segreto? Per il momento, a riguardo, Ida non ha ancora svelato alcunché. Quel che è stato è stato, il percorso di Ida Platano a Uomini e Donne è stato, senza dubbio, costellato da molti alti e bassi, ma nonostante ciò, la dama non si è mai arresa, e non ha mai smesso di sfoderare tutta l'energia, la grinta e la voglia di innamorarsi che albergano dentro il suo cuore. Nel mese di settembre, Ida tornerà a occupare il suo posto nello studio del celebre dating show di Canale 5 e chissà che, nel corso delle prime puntate, non svelerà qualcosa in più inerente alla sorpresa precedentemente citata e, soprattutto, all'artefice di essa. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Grazie a tutti.